Eccola la ciocca di capelli che potrebbe essere appartenuta a Leonardo da Vinci. Da questo giovedì mattina, proprio nel giorno in cui 500 anni fa il genio universale moriva in Francia d'Amboise, la città di Vinci gli dedica l'apertura di un museo, Leonardo vivo, con il ritrovamento di un anello e della ciocca dei capelli. Non è un feticcio, ma ci consente di procedere a una serie di verifiche, di studi ed analisi scientifiche. Un ritrovamento, quello della ciocca, avvenuto da parte dell'ispettore provinciale dei musei della provincia francese, che venne incaricato di trovare la tomba di Leonardo, una volta acquisito il presunto feretro. Prese per sede i capelli, un anello di pronto, finirono nelle mani di un collezionista americano. Passò la proprietà a un altro collezionista che rimarrà anonimo, che tre anni fa ci ha contattato per poter avviare un dialogo. Partiranno già da oggi gli accertamenti sul DNA con il confronto sui discendenti viventi per appurare la veridicità del reperto messo in discussione anche in queste ore. Sui discendenti viventi che abbiamo individuato da qualche tempo e sulle sepolture dei da Vinci riscoperte. E la mostra approfondisce lo studio anche su un ritratto di Leonardo che potrebbe raffigurare la Mona Lisa, ma senza abiti. Sorprendente rivelazione di esami scientifici sulla gioconda nuda, che è in diretto rapporto con il cartone del Museo Condé di Chantilly, recentemente attribuito a Leonardo. Infine un altro aspetto di Leonardo, quello dell'amore per il vino e le vigne. Aveva una vigna Fiesole e aveva una vigna a cui era molto legato a Milano. Il rinascimento del vino grazie a lui 500 anni fa.